Oricoast, quinta edizione, ci troviamo all'Europa Palace Hotel di Sorrento, 28 febbraio, secondo giorno di questo evento. Ci troviamo in compagnia di Pietro De Luca, che è il responsabile della De Luca Attrezzature SRL, un vero e proprio cash and carry per le attrezzature della ristorazione. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E al quale io desidero chiedere, essere arrivati alla quinta edizione significa che funziona. Sì, 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 infatti non solo funziona, ma siamo esattamente soddisfatti della manifestazione in sede, dei numeri che ha sviluppato, dei contatti, delle relazioni di business, di tutto quello che c'è attorno a questa manifestazione, di questa community, come l'abbiamo definita. Come è nata l'idea di creare un appuntamento fisso annuale, sempre al ridosso della costa amalfitana o comunque al ridosso del mare qui in Campania? Allora, la manifestazione nasce da un'idea di Enzo Lamberti e di Carmela D'Alessio, quindi della Lamberti Food dell'Agenzia di Comunicazione MTN. Tre anni fa ci chiesero di dargli una mano in quanto appunto fornitori di attenzione per la ristorazione per tutto quello che poteva riguardare il supporto tecnico per quelli che erano gli eventi, workshop e le gare di cucina. L'idea ci è piaciuta subito, l'abbiamo sposata in pieno, l'idea vincente e quindi l'anno scorso siamo diventati tutti gli effetti coorganizzatori della manifestazione, come pure per l'edizione di quest'anno e speriamo per le numerose edizioni a seguire. Edizione a seguire che vedranno evidentemente altra location. In questa quinta edizione siete a Sorrento. Perché siete a Sorrento? Allora, siamo a Sorrento prima di tutto perché la manifestazione è una manifestazione itinerante, quindi sostanzialmente ci spostiamo lungo appunto la costa amalfitana e quest'anno abbiamo deciso di cogliere questa opportunità che è anche una sfida del territorio sorrentino, dove siamo presenti, non in maniera massiccia ma se vogliamo con le eccellenze che il territorio esprime, per poter dimostrare ancora di più che le nostre aziende, quindi sia la Lamberti Food che l'azienda che in questo momento rappresentano, la De Luca S.R. per la ristorazione, sono aziende di riferimento per tutti gli operatori del settore. Avremo modo nelle prossime ore di intervistare anche alcuni degli espositori e nel frattempo parliamo della tua azienda, della De Luca S.R.L. Facciamo conoscere a coloro che sono all'altra parte questa realtà che vanta molti anni di esperienza e un'esposizione di ben 7.000 metri quadrati a Salerno. Sì, l'azienda oggi è alla terza generazione, è nata da un'idea di mio nonno che però è venuta a mancare molto presto, quindi sostanzialmente è stata sviluppata da mio padre e che poi appunto con la collaborazione anche di mio zio. Oggi siamo presenti in azienda anche noi figli e le mie cugine ed è una realtà importante che ha saputo evolversi, ha saputo crescere, abbiamo portato avanti quella che era la nostra idea del mondo degli attrezzatori, di professionalità e di impresa senza guardare in casa d'altri. Oggi è una realtà importante, affermata, appunto operiamo sul territorio nazionale con qualche punta sporadicamente anche all'estero, abbiamo un cash all'ingrosso riservato solo ed esclusivamente agli operatori del settore, tra il deposito e l'attrezzatura di vendita siamo oltre, sviluppiamo l'azienda su oltre 7.000 metri quadrati, abbiamo un sito internet molto importante che ci sta dando soddisfazioni, cresce sempre di più perché siamo attenti anche alla comunicazione, ai canali social e c'è ancora un mondo da fare quindi sostanzialmente. E allora Pietro, perché dall'altra parte vuole iniziare a guardare con maggiore attenzione ai prodotti che voi rivendete, vuole avere un contatto di tipo commerciale anche solo conoscitivo e saperne di più sulla vostra azienda e sui prodotti, i servizi che voi andate a realizzare. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per entrare in contatto con voi senza alcun impegno? Allora, l'indirizzo di posta elettronica è quello di generico di info.chiocceladelucaitalia.it Poi ovviamente invitiamo tutti quando ne avessero volontà e desiderio a venirci a trovare a Salerno, ci sono ovviamente i canali istituzionali come il sito web www.delucaitalia.it, i vari social quindi o la pagina Facebook del Luca Tresor per la Ristorazione o anche il numero Whatsapp. Tanta roba insomma, c'è una moltitudine di strumenti con cui entrare in contatto con voi. Grazie Pietro. Grazie a voi e buon proseguimento. Noi proseguiamo appunto con altre interviste tra gli stand di questa quinta edizione di Ore Coast.